Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Liberamente in Camper. Blu oggi vi porta a Modena per l'esattezza nell'area camper gestita dal camper club Mutina. L'area camper è aperta tutto l'anno, tutti i giorni, l'orario dalle 8 a mezzanotte per potervi accedere. Il costo è di 18 euro, mentre solo il carico e scarico è 5 euro. L'area è completa di tutti i servizi per la sosta, a cominciare dai bagni con acqua calda, acqua fredda, lavaggio delle vettovaglie, il carico e scarico delle acque, anche l'area dedicata allo scarico del bici chimico, il bagno dei disabili, la corrente elettrica. Tra i servizi a 600 metri c'è l'autobus, la bicicletta, il noleggio bici, il supermercato a un chilometro e mezzo. Modena dista il centro di Modena a 5 chilometri, quindi diciamo che si può raggiungere tranquillamente con una bicicletta oppure col servizio autobus. All'interno della struttura trovate anche un ristorante a 30 metri di distanza. Inoltre c'è il servizio di ricarica delle bombole o comunque di acquisto della bombola del gas, nel caso rimaniate, come dire, al freddo. Tra le comodità, oltre ai wifi, c'è anche il fatto di poter pagare alla cassa automatica con carta di credito o con bancomat, oltre che con denaro contante. gestita dal camper club Mutina è proprio un'area camper voluta e su esigenza del camperista. Gli spazi di manovra sono molto ampi, come potete vedere. Questo vuol dire che le piazzole, ma la stessa struttura, è facilmente gestibile anche da chi ha un camper di taglia XXL. Certo, nel periodo estivo dovete fare un po' di attenzione perché, non essendoci grandi zone d'ombra, risulta essere piuttosto calda come struttura. Però, bisogna dire, in tutta onestà, che i servizi dedicati al mondo del camper e del camperista ci sono tutti, dall'inizio, dall'A alla Z. Non ultimo, l'area è aperta tutto l'anno, quindi non vi sono neanche vincoli di prenotazione. Grazie.